Ciao piccoli maghi. Purtroppo sì, l'attore di Hagrid ci ha lasciati e quindi ci sta a ricordarlo. Ora, non è che mi svegli nella notte e io pensare a Harry Potter, tanto meno ad Hagrid. Però fa comunque parte della mia infanzia e quindi in fin dei conti ci sono affezionato. Cioè, per l'attore in sé, sacra condoglianza ci mancherebbe ancora. Però il personaggio di Hagrid in fin dei conti è un fattore mezzo analfabeta. Scherzo. Non lo so, farlo tutto in blu mi ricorda una scena di Harry Potter anche se non so dire qua. Però un pochino magico penso Lorenda. Forse. No dai, scherzi a parte, mi dispiace molto. Hagrid ci stava.